Arriva per la prima volta la conferma che i 41 operai indiani, intrappolati da 10 giorni in un tunnel stradale crollato, sono tutti vivi grazie a un filmato. Intanto le squadre di soccorso cercano di creare nuovi passaggi per liberarli. Il filmato ritraeva gli uomini esausti mentre scrutavano la telecamera endoscopica inviata dai soccorritori lungo il sottile tubo attraverso il quale vengono fatti entrare aria, cibo e acqua. Prima dell'introduzione della telecamera i soccorritori comunicavano con gli uomini all'interno utilizzando le radio.